Ok, prendi la pezzolina e fomenta come una limite. Dai fomi, fai. Stai, 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 stai. Eccolo, eccolo, vai via! Perfetto. Se saluta me la fai dall'altro lato. Tagli un po' di tutto, la metti a terra. Terra. E se la metti a terra. La fissa a me. Io ci credo. Resta e mettilo io. Egli la manica. Resta. Adesso la terra si appassa. Una cosa di conflittà. prima la tranquillice, la serenità, la carezze, poi la vieni bravissima crescita mi chiamo, sta cambiata tanto la provocatrice a dominanza